Domanda molto ampia, il consiglio che posso dare è quello innanzitutto di informarsi, tutto nasce dalla consapevolezza, quindi il primo consiglio ad un barista che avviene un'attività è quello di informarsi in prima persona e di capire innanzitutto la qualità dell'acqua che avrà a disposizione al punto di ingresso, qualità vuol dire la sua composizione, a partire da questa dovrà avere ben chiari i propri obiettivi, che cosa si prefigge nell'applicare un sistema di trattamento per l'acqua a disposizione, in questo modo consultando poi aziende specializzate che lo possano orientare chiaramente attraverso il panorama delle varie soluzioni che possono essere adottate, potrà fare una scelta consapevole. A priori, fra i sistemi che sono più diffusi sul mercato, che sono sostanzialmente tre, sistemi di addolcimento, vari sistemi a cartuccia, osmosi inversa, a priori non esiste una soluzione che sia migliore dell'altra, ci vuole un'analisi costi-benefici, che può essere fatta, ripeto, solamente attraverso una chiara consapevolezza di quelle che sono le esigenze di trattamento e di quelle che sono le applicazioni cui è destinato il sistema di trattamento e gli obiettivi che ci si pone. Quindi il mio consiglio è veramente di informarsi, non sottovalutare l'importanza della qualità dell'acqua, che è preeminente se desideriamo ottenere un prodotto di qualità, e poi di rivolgersi per consulenza a aziende specializzate.